I don't wanna live forever Cause I know I've been living in vain And I don't wanna fit Where else Ciao ragazzi e ciao ragazze, bentornati in questo nuovo video Oggi voglio farvi finalmente il video con i miei prodotti preferiti del 2017 per quanto riguarda la skin care, il make up e la cura dei capelli Diciamo che ormai è un po' tardi perché siamo quasi a febbraio però mi dispiaceva non farlo anche perché a me piacciono tantissimo i video degli altri ho visto che tantissimi stanno facendo ancora questi video perché effettivamente sono interessanti perché si fanno tante piccole scoperte di prodotti veramente ottimi quindi oggi ho voluto proporre anche il mio ma iniziamo subito Allora, il primo prodotto che mi è piaciuto in questo 2017, nello scorso 2017 e che è stata una sorpresa anche se è arrivato verso la fine è stato questo ovvero il piegaciglia di Mulac questo piegaciglia secondo me è fantastico perché io le sceglia molto molto dritte ed è l'unico piegaciglia tra tutti quelli che ho provato che veramente mi incurva le sceglia quindi super promosso in questo video vedrete tante cosine di Mulac che ho acquistato io con i miei soltini perché devo dire che ho scoperto in questo 2017 questo nuovo marchio che mi piace moltissimo e penso che abbia veramente prodotti di qualità Nabla non l'ho mai provato però non mi ispira tanto quanto Mulac, non so perché eppure tutti i prodotti di Mulac mi sono piaciuti quindi ne vedrete veramente una carrellata poi visto che parlavamo di Mulac sempre nella fine dell'anno ho acquistato il mascara il Gentleman questo mascara numero 01 è un mascara secondo me molto buono perché a parte avere un packaging stupendo ha una formulazione uno scovolino che in combo col piegaciglia permette veramente di incurvare le ciglia le incurva e poi dà molto volume perché è molto denso fa qualche grumetto diciamo ma non è proprio un grume è proprio la sua formulazione densa che vi dà questo effetto super ciglia drammatiche poi altro prodotto che ho adorato nel 2017 è il fondotinta di MAC il fondotinta MAC Pro Longwear è veramente un ottimo prodotto lo ho adesso anche indosso è veramente fantastico dura tantissimo dà un aspetto alla pelle opaco sì ma anche in realtà secondo me leggermente satinato dura tantissime ore è veramente fantastico più che altro però per non da usare tutti i giorni secondo me poi i prodottini che mi sono piaciuti molto per le sopracciglia sono le matite della Pupa in particolare si chiama Eye Definition Eye Brow Pencil la mia è preferisco la numero 001 anche se l'ho finita e quindi adesso sto usando la 002 che secondo me è un pochino troppo scuretta però è molto buona perché riesco a definire le ciglia in modo veramente ottimale lasciando però un aspetto comunque naturale alle sopracciglia parlando invece di eyeliner ho adorato l'eyeliner di NYX questo è l'Epic Ink Liner ha il pennellino a forma di penna ma si differenzia dagli altri pennellini dagli altri eyeliner a penna perché è costituito da tantissime setole e veramente dura tantissimo si scarica diciamo così dopo tanto tempo l'effetto è bellissimo è molto lucido è molto intenso in genere gli eyeliner a penna dopo qualche settimana iniziano a non scrivere più come se il pennarello fosse scarico invece questo ha diciamo i pregi di un eyeliner liquido però con la comodità di un eyeliner in penna l'unico difetto è che non dura tantissimo diciamo non è che non dura tantissimo ma secondo me non è waterproof ma per il resto è fantastico prodotto per la cura della pelle ho adorato la linea Hydro Revolution di Pupa in particolare la crema sorbetto trattamento idratante per pelli normali e miste e l'ho adorata soprattutto perché la uso in combo con la mio fondotinta MAC Pro Longwear poiché siccome questo è molto non è molto pesante però per me è pesante quindi lo vado ad alleggerire con un po' di questa crema qui e il fondotinta diviene veramente della consistenza perfetta più morbido più confortevole sulla pelle e secondo me in combo sono una bomba altro prodottino sempre di Mulac è un prodotto una scoperta fantastica nel 2017 che sono i rossetti liquidi rossetti liquidi che si fissano sulle labbra e poi sono no transfer cioè potete baciarvi e non trasferiscono niente adesso questo che ho su è in realtà uno di Sephora che però non mi fa impazzire perché tende ad andare via nella parte centrale delle labbra però mi serviva per il video che ho appena girato quel colore molto intenso perché io poi in realtà ho due tonalità di questi rossetti l'old school che è un rosso più pin up e poi ho anche una tonalità viola bellissima si chiama hot stuff se non sbaglio sono veramente buoni durano tanto non seccano le labbra sono no transfer veramente veramente ottimi super promossi sono stati veramente sono stati una sorta di rivoluzione per me perché finalmente posso mettere il rossetto senza trasferirlo comunque poi di Pupa ho adorato e continuo a usare la palette che non so nemmeno se sia del 2017 o di qualche anno prima comunque contouring e strobing ready for selfie che è una palette per fare il contouring e poi anche illuminante in realtà io uso questi colorini qua i marroncini per fare il contouring per scaldare l'incarnato mi trovo veramente benissimo ce lo so anche adesso uso sempre questi e non riesco più a farne almeno perché ho la praticità di tutti i prodotti che mi servono in un'unica palette e mi piacciono molto anche come prodotti poi sempre di Mulac mi è piaciuta molto la palette questa che è la Daily Mood colori veramente fantastici che su di me stanno benissimo mio parere ha tanti colorini sia molto brillanti sia proprio opati quindi è veramente fatta bene avrei cambiato solo il bianco che avrei messo un panna al posto del bianco però per il resto è veramente una palette fantastica gli ombretti sono scriventi è fantastica super promossa un altro prodotto che mi è piaciuto moltissimo nel 2017 è il correttore di MAC Prep & Prime in realtà questo è una sorta di illuminante che però applicato su delle occhiaie non troppo evidenti serve anche da correttore mi è piaciuto tanto perché illumina però anche con delle occhiaie meno evidenti corregge ed è comunque molto leggero sulla palpebra poi ho adorato il set di pennelli di Zoeva questo è un set composto da diversi pennelli devo dire anche quasi professionali perché veramente sono dei pennelli molto buoni li uso di diverse dimensioni diverse tipologie e sfumano da dio l'ombretto e tutti i prodotti super promossa Zoeva e infine passando ai capelli nel 2017 ho amato la Tangle Teaser ormai la uso sempre soprattutto per pettinare i capelli di stricchi capelli senza ruminarli non si impigliano è veramente un'ottima spazzola mi è piaciuto moltissimo e lo uso spesso anche per fare questo look questo ferro qui che si chiama Saphir dell'Iresistible Me che è un ferro multiuso perché questa parte qui guardate si toglie e si possono mettere dentro tra tante altre tipologie di ferri che danno in dotazione nel loro kit per fare le onde più piccole per fare insomma diversi look e poi in realtà a me quello che piace di più è questo col ferro grosso perché vengono questo effetto onde un po' mosso che è molto molto elegante secondo me e devo dire che io personalmente con questi prodotti dell'Iresistible Me mi sono trovata benissimo tanto che ho veramente accantonato le piastre dell'Anime Tech che avevo perché con queste mi trovo da dio e mi trovo meglio degli altri prodotti e niente spero che questo video vi sia piaciuto scrivetemi in un commento quali sono stati i vostri prodotti preferiti del 2017 se proverete qualcosa dei prodotti che vi ho illustrato ci vediamo al prossimo video ciao ciao